La polizia degli Stati Uniti ha confermato la morte di due persone a causa di un violento sistema temporalesco che nella giornata di giovedì 14 marzo ha generato un tornado lungo il corso del fiume Ohio che attraversa una serie di stati americani. Il fenomeno meteorologico ha colpito diverse case e aziende e in alcune località i danni sono risultati particolarmente ingenti e per questo si teme che anche il bilancio definitivo in termini di perdite di vite umane possa risultare più grave. Per una valutazione complessiva dei danni occorrerà tuttavia del tempo, per ora la priorità è data alle squadre di soccorso.